Salve a tutti, in questo video tutorial andremo a vedere cosa un programma come 3D Slash ha da offrire. 3D Slash è un programma molto basico di modellazione 3D accessibile direttamente da browser. Per accedervi infatti basterà cliccare sul primo link nella ricerca di Google, in questo modo. Una volta caricata la pagina possiamo andare subito a creare il nostro progetto cliccando Create Now. Fatto questo ci caricherà questa pagina dove possiamo selezionare da che tipo di template vogliamo partire per la nostra modellazione. Come vediamo abbiamo un classico cubo, dopodiché uno spazio vuoto, andando avanti possiamo inserire un file STL da modificare noi stessi o un file SVG da modificare noi stessi partendo dal 2D e infine un file di testo direttamente selezionabile dal programma. Per più facilità oggi selezioniamo il cubo classico. Quindi una volta caricata la pagina questa è la nostra interfaccia. Partendo da un'altra a destra abbiamo tutte le opzioni legate a quello che è il nostro file. Quindi possiamo salvare, aprire un nuovo progetto, aprire altre applicazioni o condividere il nostro progetto direttamente sui nostri account social. Per ora però clicchiamo solo il pulsante accanto che ci permette di disabilitare i rumori del programma. Guardando subito sotto a destra notiamo che c'è un righello. Questi righelli presenti sia a destra che sotto ci permettono di avere una visione di sezione del nostro oggetto. Infatti abbassando la leva possiamo vedere come viene sezionata la vista. Andando a modificare gli slider sottostanti possiamo vedere come la vista sezionata cambia da quella verticale a quella orizzontale. Prima sull'asse X e poi sull'asse Y. Andando avanti possiamo notare questi cerchi che stanno a simboleggiare la dimensione dello strumento che andremo ad utilizzare. Infatti selezionando l'oggetto e selezionando uno di questi cerchi possiamo andare a modificare la sua dimensione a 32 mm fino ad un quarto della massa totale del nostro oggetto. Ora però andiamo a vedere come è opportuno modellare all'interno di 3D Slash. Essendo un programma molto basico 3D Slash ci offre la possibilità unicamente di modellare il nostro oggetto tramite l'addizione e la sottrazione di semplici forme geometriche delimitate molto spesso in cubi. In questo caso noi abbiamo selezionato lo strumento martello alla dimensione di 8 mm e andiamo a vedere che appunto cliccando sul cubo andremo a sezionarlo semplicemente rimuovendo piccoli cubi di 8 mm dalla massa del nostro oggetto. Qui ne possiamo togliere tramite lo strumento martello uno ad uno ma per esempio in maniera più efficiente se andassimo a selezionare lo strumento Cisel ci permetterebbe di togliere in un solo colpo un'intera fila di cubi. Andando avanti o meglio indietro troviamo lo strumento Trowel che invece ci permette di piazzare cubi per formare il nostro oggetto dopodiché abbiamo lo strumento Wall che ci permette di creare un intero muro di cubi a seconda di dove lo piazziamo dopodiché lo strumento Drill che ci permette di levare completamente un oggetto rispetto all'altro infatti a seconda dei colori degli oggetti il programma 3D Slash delimita quale oggetto è quale e andando a cliccare appunto su un oggetto di uno stesso colore lo eliminiamo completamente in quanto oggetto separato dal resto. Quindi andando avanti troviamo tutti gli strumenti legati al colore che come ho appena detto appunto conferiscono la possibilità di delimitare quale oggetto è quale all'interno del programma quindi per esempio selezionando lo strumento Spray andiamo appunto a vedere come creiamo un altro oggetto separato direttamente derivato dal nostro oggetto iniziale dopodiché abbiamo lo strumento Secchiello che ci permette di colorare un'intera parte dopodiché abbiamo lo strumento Contagocce che ci permette di selezionare un colore intero e per finire lo strumento Siringa che ci permette non solo di colorare l'esterno del nostro cubo ma anche il suo interno Andando avanti quindi troviamo tutte le opzioni avanzate che ci permettono di modificare ancora di più nel dettaglio il nostro oggetto Il primo strumento che andremo a vedere è lo strumento di proiezione che ci permette di proiettare una determinata immagine su una faccia che andiamo a selezionare in questo caso quindi potremo prendere la faccia di sinistra e andare a selezionare un'immagine che ci propone il programma come ad esempio questo cuore che una volta cliccato ok in questo modo verrà proiettata sul lato del nostro oggetto da qui quindi tramite gli strumenti che abbiamo già visto possiamo andare a modificare l'oggetto seguendo magari la traccia del disegno proiettato Andando avanti troviamo invece lo strumento Riempi che semplicemente riempie i buchi che abbiamo creato con la nostra modellazione precedente dopodiché abbiamo lo strumento Finger che ci permette di rimuovere un intero strato della dimensione che abbiamo selezionato attraverso i cerchi direttamente dall'oggetto con un clic dopodiché troviamo lo strumento Seleziona che ci permette appunto di selezionare un qualsiasi oggetto all'interno del nostro progetto e per finire lo strumento Shape che ci permette di implementare all'interno della nostra modellazione delle forme basiche come ad esempio questa del cono che andiamo a posizionare all'interno del nostro ambiente di lavoro che cliccando ok verrà integrata insieme al nostro cubo di base come dovete vedere adesso la piramide è perfettamente integrata all'interno del cubo dopodiché per finire troviamo la selezione dei colori che ci permette per l'appunto di modificare sia l'aspetto dell'oggetto che le sue proprietà rendendolo un oggetto singolo o più oggetti nello stesso progetto per finire andiamo a vedere come salvare il nostro file basta cliccare su Salva qua ci dice di registrarci al sito e una volta inserita la nostra mail e compilato il modulo di registrazione il nostro progetto verrà salvato direttamente sul servizio cloud del sito 3dslash per questo breve video tutorial è tutto per altri video come questo seguite JPDtube grazie a tutti Grazie a tutti.